Inizieremo a parlare dei grandi scrittori tragici e in primo luogo cominceremo il nostro lungo percorso nella tragedia greca da Eschilo, il più antico e uno dei più famosi sicuramente tra tutti quanti gli autori della letteratura greca. Prima di poter fare questo abbiamo però bisogno di familiarizzare con quello che è un lessico specialistico e specifico che riguarda un po' la struttura della tragedia. In particolar modo una tragedia di epoca classica, una tragedia già eschilea, prevedeva la presenza di parti predefinite e ben determinate. Quali sono queste parti? Innanzitutto il prologo. Per prologo si intende, come diceva Aristotele, tutto quello che precedeva la parados e che in realtà dava inizio alla tragedia. Il prologo poteva essere un monologo o un dialogo, in alcuni casi è addirittura recitato da personaggi che non compaiono più nel corso della tragedia e vedremo che avrà una sua evoluzione perché se negli scrittori più antichi, per esempio anche Eschilo di cui parleremo un po' meglio, il prologo di fatto è già la scena, è già praticamente la storia, è già l'inizio della storia. Con altri scrittori come Euripide per esempio il prologo invece servirà a dare agli spettatori quelle che sono le coordinate per seguire invece poi la narrazione che di lì a poco si può snodare. La parados e secondo momento la tragedia è il canto d'ingresso del coro. I coreodi appunto facevano il loro ingresso nella parte del teatro dedicato a loro intonando un canto corale. La tragedia poi prevedeva un'alternanza di episodi e stasi. Gli episodi sono le parti dialogiche, quelle che come vedremo probabilmente proprio da Eschilo cominciano a essere approfondite, sono compresi appunto fra due parti corali e nella tragedia potevano andare da tre a cinque. I canti corali invece erano gli stasimi e chiudevano gli episodi e rappresentano poi per ogni autore uno spazio da sfruttare e da gestire secondo quelle che sono le proprie idee rispetto proprio alla drammaturgia, alla struttura della tragedia stessa. Spesso il coro rappresenta una sorta di interlocutore, questo accade soprattutto in Euripide, in altre occasioni diventa una specie di coscienza del protagonista. Diciamo che poi gli autori ne faranno un uso diverso da tragedia a tragedia. E poi c'è l'esodo che è il canto finale di uscita del coro. Dicevamo Eschilo. Chi è Eschilo? Come si vede dalla cronologia piuttosto alta, 525-456, Eschilo è uno di quei personaggi che si colloca ancora nella fase cosiddetta arcaica della storia della letteratura greca, o meglio, a ridosso tra la fase arcaica e la fase classica. E di questo essere un elemento di transizione fra due momenti importanti della cultura greca, sicuramente Eschilo mantiene tutti gli elementi e tutte le caratteristiche. Eschilo era nato ad Eleusi. Questa annotazione conviene farla e questo posto, questo luogo conviene ricordarlo, perché Eleusi era un sobborgo di Atene nel quale c'era una fortissima tradizione religiosa. I misteri Eleusini, legati alla Demetra, alla natura, insomma alla fecondità dei campi, avevano una tradizione antichissima e questa dimensione religiosa permea sicuramente il teatro Eschileo. Tra nobiltà e democrazia, in effetti il titolo vuole dar conto di un personaggio che, sebbene fosse legato alla famiglia degli Eopatridi, nel corso della sua vita assunse atteggiamenti più in linea con la democrazia, o meglio, con l'appoggio a un certo tipo di fazione politica ateniese. Sebbene è da dire pure che, per esempio, nei confronti di uomini come Peri, nei confronti anche di alcune evoluzioni che a un certo punto si verificarono all'interno della politica ateniese. Insomma, i drammi di Eschileo non ci permettono di capire bene quale atteggiamento egli mantenesse. Maratona, Salamina, Platea sono i luoghi simbolo delle guerre persiane, alcuni tra i luoghi simbolo delle guerre persiane, che vengono qui richiamati perché Eschileo è, come vedremo poi anche nel suo epitafio, è principalmente un combattente, è un guerriero. Eschileo combatte durante le guerre persiane, combatte a Maratona, a Salamina, forse anche a Platea, viene ferito, il fratello Cinegiro sembra che sia morto eroicamente, e questa esperienza delle guerre persiane, di tutto questo mondo anche di idee, di valori, che si dovettero confrontare poi quando i greci furono chiamati a difendere la loro patria, le loro case, le loro mogli, dall'arrivo dei persiane, di Dario I e di Cerseboi, beh, tutto questo mondo lo ritroviamo nel teatro di Eschileo. La Sicilia di Ierone, bene, molte volte si parla anche di geografia della letteratura, nel caso di Eschileo uno dei luoghi a cui fu sicuramente legato fu appunto la Sicilia e Siracusa. Il teatro di Cacusa lo chiamò in occasione della fondazione di una città, appunto, per la quale, una città di Etna, per la quale Eschileo compose l'Etne. Sulle date in verità ci sono una serie di dubbi, però sembra che Eschileo abbia fatto almeno un paio di viaggi in Sicilia e che sia morto proprio in Sicilia nel 456 a.C. nella città di Gela, dopo aver composto il suo epitafio, che tra un attimo vedremo perché è interessante anche per capire che tipo di personaggio doveva essere Eschileo, e secondo la tradizione sarebbe morto in maniera abbastanza paradossale perché un uccello, un aquile, avrebbe fatto cadere sulla sua testa pelata un guscio di tartaruga per romperlo, quindi insomma una cosa che avrebbe poi tra l'altro dato adempimento anche ad un oracolo, quindi una leggenda sicuramente molto curiosa. Eschileo è un grande uomo di teatro, gli si attribuiscono 13 vittorie, iniziò molto giovane, insomma doveva avere 25-26 anni per la prima rappresentazione, e se contiamo i titoli che da una fonte o dall'altra, dalle ischezioni ateniesi e dagli autori vengono a noi ricordati, arriviamo a oltre 90 titoli. Si diceva il rapporto della figura di Eschileo e di Eschileo con il teatro. Eschileo non è solo un grande poeta e un grande scrittore teatrale, Eschileo fu un uomo di teatro, fu quello che oggi noi definiremo anche un regista teatrale, nel senso che dovette lavorare molto anche sulla costruzione, sulla messa in scena dell'opera teatrale. Secondo Aristotele, per esempio, Eschileo sarebbe un po' il personaggio chiave per comprendere l'evoluzione della tragedia, perché partendo dalla sua teoria, che come abbiamo visto considerava come momento di avvio della tragedia il titirambo, Eschileo sarebbe stato colui il quale avrebbe inventato il Deuteragoni stesso, cioè un secondo attore da affiancare al Protagoni stesso, con il quale di fatto si sarebbe poi sempre più ampliata la parte dialogica. Questo è sicuramente un elemento significativo, fa capire come per Eschilo la parola dovesse essere in ogni caso fondamentale. Altro elemento importante da ricordare della drammaturgia Eschileo, del suo modo di concepire il teatro, è sicuramente la trilogia legata. Cosa vuol dire trilogia legata? Abbiamo già visto che le tragedie venivano messe in scena in occasione delle feste dionisiache, sotto forma di agon, quindi di confronto, di festival, diciamo così, in cui i poeti gareggiavano, e ogni poeta doveva presentare una trilogia e un dramma satirisco. Bene, Eschilo compone trilogie che vengono praticamente immaginate come singoli momenti di uno stesso dramma, cioè i tre drammi sono legati fra loro, per cui sono focalizzati su momenti diversi di uno stesso mito, di una stessa vicenda. Ultimo elemento, che è pure il caso di considerare, proprio per ribadire la dimensione fortissima di uomo di teatro, di questo straordinario poeta che fu Eschilo, è la grande importanza che gli dà la scenografia, si vede per esempio nei sette a Tebbe, e agli effetti scenici. Molti ricordano a questo punto le macchine sceniche che Eschilo dovette utilizzare, per esempio per riprodurre sulla scena il sogno in cui appariva il fantasma del reddario, oppure la grande attenzione che Eschilo mette sugli oggetti scenici, la farietra spezzata del resserse, quando arriva sulla scena alla fine dei persiani. Per cui tutti elementi che ci fanno capire come questo personaggio fosse assolutamente permeato del teatro e di tutto quello che al teatro si collega. Quello che vedete adesso nella slide è l'epitaffio che secondo la tradizione avrebbe composto per se stesso lo stesso Eschilo. Questa tomba della Fertile Gela racchiude a Eschilo, figlio di Euforione, Ateniese, il suo valore potrebbero dirle l'illustro bosco di Maratona e il Medo dalle lunghe chiome, che lo sa bene. È interessante questo epitaffio, da una ragione molto semplice, perché colui che fu uno dei più grandi scrittori del mondo antico, uno dei più grandi uomini di teatro che la cultura occidentale ricordi, nel suo epitaffio sembra dare molta più importanza alla sua figura di combattente nelle quelle persiane che non al suo teatro. è indicativo di una mentalità, è indicativo di un modo di essere, è indicativo soprattutto di come la generazione delle quelle persiane fosse fortemente permeata di questi valori. Ora, prima di addentrarci nelle tragedie di Eschilo, è opportuno focalizzare l'attenzione su quelli che sono i nuclei fondanti del suo teatro, quelli che sono i concetti che ritornano e che poi alla fine fanno dei suoi personaggi, degli emblemi straordinari. Il teatro di Eschilo, possiamo subito dire che è un teatro che vede il mito come paradigma, cioè che guarda il mito come ad un insegnamento, ad una fonte di insegnamento per gli uomini. Il mito significa l'eroe, significa il rapporto tra l'eroe e il dio, significa le grandi emozioni e le grandi passioni di questi eroi. Significa soprattutto lo studio di quello che questi eroi vivono e di come si comportano. E in particolare, al centro del teatro di Eschilo, potremmo dire, ci sono degli aspetti, delle parole, dei concetti che diventano significativi. Iubris, Nemesis, Genos. Che cosa vogliono dire? E perché, come leggete nella slide, la vendetta, il castigo, a un certo punto rappresentano degli elementi che sembrano quasi chiudere gli uomini, sembrano quasi fare della vita degli uomini una sorta di circolo vizioso al quale l'uomo non può sfuggire. Cominciamo dalla Iubris. È qualcosa che i greci conoscono da Eschilo e da Solone. Voi abbiamo già visto come la Iubris è quell'atteggiamento di arroganza, di presunzione che porta l'uomo a ergersi contro gli altri o contro gli dèi, a violare una serie di limiti. Molte volte questo accade perché l'uomo è accecato dall'olbos, dal successo, dalla prosperità, e cade in una sorta di situazione di cecità nella quale non riesce più a capire i propri limiti. Ma è questo atteggiamento di Iubris, che già Solone condannava e che già Solone vedeva come deleterio per una polis quando fosse stato l'atteggiamento tipico dei suoi governanti, onomia di usnomia, no? Questo atteggiamento di Iubris attira che cosa? Una nemesis, una punizione, una vendetta che arriva dagli dèi. L'uomo quindi è punito, l'uomo quindi soffre, l'uomo quindi vive la sua tragedia perché è colpevole di qualcosa. Nel teatro di Eschilo si può dire che tutto stia al proprio posto. Il dolore dell'uomo è il frutto di un errore, di una colpa, che ha attirato sugli uomini una nemesis, una vendetta che arriva perché si compia, diche, giustizia. E Zeus è il garante di questa giustizia. Qual è il rapporto tra il singolo e il genos, la famiglia? Bene, il teatro di Eschilo in questo mostra di avere ancora una dimensione arcaica della morale e del pensiero greco. Perché? Perché se è vero che l'uomo può cadere in una colpa, in una iubris, attirarsi una vendetta, una punizione, è vero pure che se questa punizione non colpisce l'uomo può colpire un membro della sua famiglia, può colpire il figlio o il figlio del figlio. Cioè nel senso che nell'idea di Eschilo la colpa è in qualche modo ereditaria. La colpa del padre può essere scontata dal figlio. Questo significa che la tragedia molte volte, ed è il caso dell'Orestea, che è la trilogia di Eschilo forse più grande, più importante, è all'interno della famiglia che la tragedia viene vissuta ed è all'interno della famiglia che la colpa viene punita. Si può pensare al mito di Agamennone, molto famoso, Agamennone che sconta le colpe del padre Atreo, Agamennone che poi uccide Ifigenia e che per aver ucciso Ifigenia sconta anche lui una colpa una volta che torna in patria e viene ucciso da Clitennestra e da Egisto. Clitennestra a sua volta anche lei poi viene ucciso dal figlio Oreste per una vendetta. Quindi ecco perché poi un circolo vizioso. Perché si assiste ad una situazione sicuramente in parte paradossale per la quale l'uomo molte volte si trova a sbagliare anche perché è costretto dagli dèi a compiere una scelta, ma proprio quella scelta poi lo porta ad attirare su di sé quella vendetta, quella punizione che di fatto ne sancisce il dolore. In tutto questo c'è sicuramente molto di arcaismo, c'è però sicuramente una visione del dolore particolare perché nel momento in cui il dolore ha una sua logica, ha una sua ragione, si compie quello che in Eschilo si definisce Pateimatos, ovvero sia l'uomo apprende attraverso la sofferenza. La sofferenza permette all'uomo di crescere e questa è una dimensione fondamentale perché nella visione di Eschilo il rapporto tra l'uomo e il Dio è così profondo, è così intenso, è così forte che nulla succede per caso. Quando Agamemnon arriva in patria dopo aver vinto la guerra di Troia e ha un moto di stizza, di rabbia, di amarezza quando la regina Triternestra gli fa vedere davanti alla porta della reggia un tappeto rosso perché lui è il vincitore, Agamemnon in quel momento ricorda che il rosso è anche il colore del sangue, quello di Ifigenia che ha dovuto versare, quello dei tanti soldati che sono morti. Cioè Agamemnon dimostra di aver acquisito attraverso il dolore e attraverso le sofferenze della guerra una consapevolezza. Per cui Eschilo in questo modo ribalta una dimensione quasi legata al caso del dolore e della sofferenza e fa del dolore e della sofferenza un veicolo di crescita per l'uomo stesso. Si capisce quindi come il suo teatro fosse un teatro nel quale le emozioni, le passioni di questi straordinari personaggi avevano tutte quante un senso, avevano tutte quante una logica perché avevano una ragione nella colpa dell'uomo e avevano un fine, un obiettivo che era appunto quello della ricostituzione di Dicche, la giustizia.